All'attacco di Renzi va anche il Movimento 5 Stelle e incostituzionale la tassazione delle rendite, questo, dicono, è il governo delle tasse alle famiglie che risparmia le banche, quanto alla frase poi del Premier sulla coppia CGL e Confindustria. La battuta su Squinzi e Lacamusso ci fa capire lo spessore di Renzi, detta proprio da lui che ha fatto la strana coppia con Berlusconi per fare la legge elettorale con un condannato, quindi io direi che questa gente effettivamente non ha più il senso delle cose come funzionano e per questo motivo è la nostra ora e dobbiamo veramente mandarli via.